salve a tutti e allora iniziamo in questo video con una mini cooper turbo 1.6 qualcosa si era partito da questa testata che mi era arrivata da controllare però poi abbiamo visto che c'è stato un problema nella circolazione dell'acqua quindi non andava a funzionare se preferite invece di riparare questa testata di andare a cercare un'altra testata in queste condizioni è arrivata questa testata che sembra in ottime condizioni e per giunta è ancora montata e quindi per adesso andiamo soltanto a smontare tutta la testata voglio fare vedere se riesco ecco qui c'è il flauto dell'alimentazione gli iniettori ancora montati i condotti di aspirazione che ancora non sono state lavorate la testata ancora non è stata manomessa a livello di lavorazione quindi andiamo a smontare un po tutta la parte meccanica degli alberi a cam molle e quindi bilanciere a rulli che sono montate su questo tipo di testata e andiamo a fare un precontrollo sempre iniziale poi ripeto da da questa valutazione andiamo sempre poi a definire un po anche la lavorazione sui condotti che volevo fare ecco qui la testata come si presenta a livello anche di circolazione dell'olio voglio dire la testata è ben lubrificata e pulita anche nello stesso senso nello stesso senso come mantenimento di olio quindi l'abbiamo l'andiamo a trovare in buone condizioni anche attraverso i condotti andiamo a vedere che la testata vedete non è lavorata quindi andiamo un po a vedere come si fa a comportare e nello stesso tempo possiamo anche fare qualche modifica andiamo a sfruttare con la testata che fuori uso quindi facciamo dei flussaggi anche attraverso qui se c'è qualcosa da modificare almeno in un in un cilindro per poter fare delle valutazioni e poi riportarle in questa e vedere com'è il comportamento quindi andiamo un po a vedere se possiamo sfruttare il beneficio della testata che è fuori uso e nello stesso tempo ripeto andiamo a smontare la testata e poi iniziamo a fare altre valutazioni prima delle del controllo di flussaggio su questa testata e allora definite le varie prove di flussaggio sulla mini cooper 1600 turbo quindi andiamo un po a vedere i risultati anche perché ho evidenziato che mentre sull'aspirazione abbiamo qualcosina da lavorare per andare un po a migliorare qualcosa sullo scarico invece siamo già a buon punto quindi ha bisogno soltanto di piccole lavorazioni aggiustamente più che altro perché già si va a comportare bene lo andiamo a fare ora per adesso a leggere il grafico di lettura della prova e poi lo analizzeremo qualcosa a vedere sulla testata che andiamo poi a scendere dal banco quindi poi la lavorazione successiva sulla su questa testata come lavorazione poi finale lo andiamo poi a vedere sul prossimo video anche perché ne studierò qualche cosa in particolare proprio andando a sfruttare l'altra testata è un in base all'inclinazione del condotto come andiamo a vedere ora dopo che scendiamo la testata ha bisogno di avere qualcosina di un oltre di riguardo in qualche punto di lavorazione quindi lo andiamo a notare e poi vediamo e allora andiamo ad analizzare sempre partendo dall'aspirazione cosa andiamo a vedere qui intanto il comportamento è sempre in salita però già da 7 mm in poi va a guadagnare poco il comportamento della prova di flusso sull'aspirazione di fatto se andiamo a valutare il flusso nel senso contrario vedete quant'è la stima di miglioramento quindi abbiamo dalla camera dalla camera che va a uscire verso fuori che si va a comportare meglio proprio ripeto non abbiamo il piattello però anche il flusso lo andiamo a indirizzare meglio quindi c'è da lavorare un pochettino sull'andamento del condotto vicino qui se lo valvola e guida per andare un po' a migliorare anche l'ingresso in camera perché quello che andiamo ad avere è un abbassamento sulla portata totale anche se nel senso contrario abbiamo sempre quella portata maggiore e di fatti se lo andiamo a valutare con lo scarico a parità di sezioni di valvola che sono minori e quindi anche i condotti sul passaggio sete valvola sono differenti se andiamo a vedere lo scarico nel senso giusto va a superare l'aspirazione perché se andiamo a togliere un po' esatto e allora questo in rosso è l'andamento del condotto di aspirazione e vedete che a parità di portata sull'aspirazione e sullo scarico lo andiamo a superare quindi in questo caso va a lavorare meglio lo scarico e quindi al di là che poi è una macchina turbo e quindi anche qui sull'aspirazione andiamo ad avere degli incrementi superiori però ripeto siamo sempre limitati sulla portata anche dalla geometria del condotto vediamo di poter fare qualcosa di aggiustamento e di fatto lo vedete come lo scarico ha bisogno di poca lavorazione perché si va a comportare al di là delle sezioni meglio dell'aspirazione proprio perché anche questo tipo di restata come inclinazione ora andiamo a vedere abbiamo un condotto leggermente schiacciato che si avvicina in camera quindi se andiamo poi a ricontrollare pure il comportamento dello scarico nel senso contrario vedete di quanto si va a abbassare ma uguagliando le due prove a livello di sezione quindi nello stesso senso cioè da fuori della testata verso la camera questo dello scarico va a eguagliare quello dell'aspirazione vedete i due condotti si vanno a comportare nello stesso modo proprio perché al di là della sezione ripeto della valvola che è più grande rispetto a quello dello scarico abbiamo un'entrata del condotto che non è ben ottimizzata per l'entrata in camera quindi lo andiamo a sfruttare soltanto con un'inclinazione diversa anche del condotto che ho visto nella prova di flussaggio per l'impostazione per l'altrezzo di andare ad aprire le valvole vanno a cambiare le due inclinazioni quindi quello dello scarico come impostazione anche dell'angolo delle valvole va a cambiare rispetto all'aspirazione quindi si vanno a comportare differentemente quindi sullo scarico c'è poco da lavorare o perlomeno andare a aggiustare soltanto i punti di fusione sul condotto e qualche miglioramento sul passaggio sottosede invece sull'aspirazione dobbiamo andare un po' a vedere tutta questa differenza che si va a avere nel flusso contrario sull'aspirazione ma ripeto vediamo dove andare a lavorare quindi ora vado a scendere la testata la andiamo a vedere un po' prima che poi sull'altra prova del video andiamo a fare poi la testata lavorata in questo caso andiamo a vedere un po' le portate in GFM quindi questo è il condotto di aspirazione originale e andiamo a vedere questo è il comportamento che abbiamo nella prova di flussaggio e questi sono i valori che andiamo a leggere in portata in GFM vedete che la media è un po' bassa rispetto anche ad altre testate come tipologia di cilindrata quindi anche un 1.6-16 valvoli abbiamo poca influenza di portata qui quindi vediamo di poter andare a vedere come modificare un po' la geometria prima dell'ingresso sulla testata per avere dei miglioramenti d'accordo quindi andiamo a vedere un po' la testata ora smontata e poi aggiorneremo tutto sul prossimo video come miglioramento sulla testata e allora andiamo a vedere un po' il discorso del flussaggio che cosa andava a portare in evidenza quindi vediamo che qui mentre le valvole sono già aspirazione 29 diametro esterno contro lo scarico 26 quindi qui l'ho scritto in questo foglio quindi 29 l'aspirazione 26 2 l'abbiamo lo scarico il passaggio sede l'abbiamo 24 5 sull'aspirazione e 22 sullo scarico ma la sezione dello scarico anche se è più piccola va a tirare meglio dell'aspirazione ma andiamo un po' a vedere perché questo comportamento se andiamo a vedere le due questa è un po' quella rovinata che andrà sostituita con questa qua ma se la andiamo a vedere vedete che ha un'angolazione io mi abbasso proprio perché voglio andare in angolazione del condotto di aspirazione vedete quanto mi devo abbassare per avere il condotto di aspirazione in linea però ripeto abbiamo poco riempimento proprio perché abbiamo questa sezione che viene dritto proprio sull'ostacolo della valvola invece l'aspirazione abbiamo molta più sezione di passaggio quindi con un'angolazione diversa e a parità di se andiamo un po' a vedere i diametri di passaggio quello che comporta non è tanto poi il passaggio sede ma la sezione del condotto quindi questa sezione del condotto di aspirazione va a uguagliare quello dello scarico per questo sullo scarico ci andiamo a comportare meglio a livello di fuoriuscita dei cassetti di scarico rispetto all'aspirazione quindi è questo che dobbiamo andare a migliorare sull'aspirazione risolvere il problema dell'inclinazione che è un po' qualche altra d'estate se non ricordo male anche l'RS del Cosworth aveva pure questo problema anche sull'aspirazione quindi dobbiamo un po' andare a vedere di addorcire un po' le curvature di ingresso sull'aspirazione per poter avere dei miglioramenti e andare un po' a come dire a sfruttare anche l'angolazione della camera per avere un riempimento aggevolare un po' il riempimento sul cilindro va bene ripeto farò qualche prova su questo andrò a vedere un po' un cilindro che si va a comportare che posso lavorare su questo per avere un ipotetico come dire avere un confronto già lavorando su questa testata che è fuori uso e Nutri andrà a fare questo direttamente visto che ho questa possibilità ma perché anche questo discorso se andiamo a valutare la sezione interna sulla testata aspetto un attimo che vado a vedere come poter bloccare questa è la parte dell'aspirazione quindi dalla dall'inclinazione del condotto che arriva vedete in questo punto abbiamo poco materiale di andare a lavorare quindi dobbiamo calcolare bene gli spessori e anche addolcire un po' quest'angolo altrimenti andiamo a forare la testata quindi al di là della fusione che abbiamo internamente dobbiamo valutare quanto margine di spessore abbiamo per questo dico sempre di valutare dove è possibile poter vedere quest'andamento del condotto interno della fusione anche per capire un po' come si va a comportare la lavorazione dove abbiamo margine di lavorazione visto che non abbiamo la sezione della testata che possiamo andare a tagliare quindi andiamo a sfruttare in questo modo e poi facciamo il confronto della prova quindi sull'altro video una volta che avrò i dati su quella testata lavorerò questo e poi lo andiamo ad analizzare rispetto allo scarico che abbiamo poco da andare a migliorare cioè poco aggiustamente da andare a fare nutre aumentare troppo le sezioni di passaggio che poi non lo andiamo a sfruttare e peggiorerà il nostro riempimento anche del motore cioè il rendimento del motore ci andrà un po' a svuotarsi un po' quindi andiamo a mantenere qualche piccolo aggiustamento sullo scarico e poi un po' Grazie a tutti.